Ciao ragazzi e oggi vi faccio vedere una nuova recensione di una action figure Gypsy Danger Io ho visto il film Pacific Rim che poi farò una recensione o comunque vi farò sapere del mio pensiero su quel film ma questa action figure è bellissima è perfetta, è uguale identica al film e anche se ha pochi accessori io comunque sono viziato perché a me piacciono molto quando hanno molti accessori comunque è fatta benissimo, riproduce perfettamente quella del film allora ovviamente questo è più che per esposizione e più per giocarci come action figure però secondo me è buona lo stesso abbiamo un movimento del braccio molto duro ma molto duro che arriva fino a qui è fermato perché sennò c'è questo e lo si rompe poi al movimento del braccio all'indietro fino a qui sempre perché sennò dopo si rompe quindi lo mettiamo a posto così qui al gomito ha questo movimento molto buono io gli ho messo le lame ma si possono mettere e togliere le mani qui possono ruotare però non lo faccio perché ci sono le lame poi il movimento delle gambe va in avanti fino a così è poco, capiscono, è poco è indietro fino a così il movimento della gamba qui è buono, molto buono anche questo poi qui dietro invece ha questo piccolo cosino che può andare in alto che non serve a niente però secondo me è molto, è un dettaglio allo stesso importante so che c'è pochissima roba da dire su queste action figure perché non ha accessori, non ha niente da dire però per esempio guardate qui io ho preso comunque ci sono molte altre action figure di gipsy venger, di gipsy danger e comunque sono molto belle ma questa guardate che dettagli che ha anche qui il movimento si muove pochissimo infatti come se non ci fosse però per esempio anche solo queste cose qua la testa come è fatta queste diciamo perfezioni qua, il numero 34 le lame che sono fatte molto bene diciamo anche lo sporco, il blu scuro anche dietro guardate che incredibili che sono questi dettagli qui la spina dorsale dello Jäger i movimenti qui, anche questi sono tutti fatti molto bene comunque è un action figure fatta bene e comunque costa il giusto secondo me per un action figure del genere perché ha pochi accessori è così però è fatta molto bene e soprattutto è dura si mantiene comunque il movimento non come quelle altre action figure che magari sono un po' molle per esempio quindi comunque lo so che questo è stato un video brevissimo però comunque ci tenevo a farlo perché è un action figure veramente bella poi comunque usciranno prossimamente anche dei video su un action figure di altri Jäger e probabilmente le farò anche uno su un caoju e allora ci vediamo al prossimo video ragazzi mi dispiace che sia stato corto però è stato bello lo stesso ciao